siamo lì e siamo lì abbiamo vinto in coppa italia con la roma ora ci aspetta in campionato siamo lì siamo a due punti da milano e napoli siamo lì voglio un'altra partita uguale a quella identica identica non si cambia nulla per adesso non si cambia nulla 16 gol a santiago siamo lì al febbraio ben trovati amici da parte di piero gipardo e lelle danni pronti per il commento serie a pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo vi aspetto una gara giocata ad altissima intensità partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo sarà battaglia vera ragazzi in campo e tra due squadre no no guarda come si sono fatti in culato bravissimo mosca spina sola l'ex non è possibile non è possibile ma che c'avemo ma che cazzo c'avemo una sfida assurda con sti cazzo dei cosi però gabriel si rialza zitto zitti zitti si rialzato non si ha fatto niente si ha fatto niente gabriel mamma mia che culo franco non è adatto adesso è troppo giovane troppe responsabilità troppissima responsabilità bravo mi va di mele che esce benissimo palla al piede spinazzola spinazzola bravo per Gimenez che culo che culo chissà che non la risolva proprio lui con una giocata con un guizzo da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore stiamo parlando del miglior realizzatore vi prego le va strappate gli escamaglietta clai verticola 10 date gli armen a Zaniolo che è rimasto a Roma tutti ci aspettavamo che andasse a Juve come ogni anno succede un carriera allenatore mamma mia Vico come te ne sei annato vai Vico vai Vico provala Vico madonna te Dio stai facendo il gol della vita e no siamo finiti però ci siamo ci siamo raddigiamo sto cazzo del Napoli e del Milan siamo a meno due siamo a meno due ancora lunga però bravo vai Agnonto da cuore no 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 Agnonto che piedacchi lo vediamo sta ripensando all'errore di poco fa potrebbe avere un impatto importante a livello emotivo Kovacic il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti ma la manovra stenta a decollare la circolazione palla è troppo lenta gli avversari hanno quasi sempre il tempo per sistemarsi e chiudere tutti gli spazi devono essere più veloci liberarsi prima della palla se vogliono no no così non così però spina chiede scusa chiedi scusa a sto cavolo a sto cavolo a sto cavolo che cazzata questa netta è Coppa Italia giovano i titolari della Roma non più le seconde scelte occhio a questo lancio l'arbitro manda le due squadre negli sfogliatoi al termine dai che se fa recuperare pure in Coppa Italia 1-0 3-1 dai che si può comincia ora il secondo tempo si può fare fatti perdonare spina per quell'errore increscioso menocello la topa mamma mia mamma mia si muovia così menocello mamma mia mamma mia si è imparato pure a tirare si è imparato anche a tirare Marino pericolosissimo a ogni tiro da fuori che fa incredibile non era capace a prendere la porta l'anno scorso adesso sembra Deulofeu incredibile bravo ognonto e che cuore però sempre così guarda che culo guarda è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile vai Franco responsabilità assurda per Franco soltanto 16 anni ci vuole essere straordinario però deve fare i conti con le proprie emozioni anche lui ci sono metri a disposizione bravissima posso razzullare lo svantaggio prova a spina super parata da pochi passi è riuscito a salvare Pier l'avevo vista già dentro ti dico la verità non so come abbia fatto a toglierla dalla porta Berardi prova a farla passare 16 anni non prova emozioni però è glaciale non perdetevi il prossimo incontro sempre qui su IETV perché te la sei allungata così perché 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 siamo parecchio stanchi ragazzi ci può stare ma non scello fa quello che vuole col pallone ormai quello che vuole pensate ci ha mai giocato prima dei 17 anni Vicorelli è bellissimo esce catroia porca siamo entrati negli ultimi 10 minuti prova a cambiare gioco Ruben Nevers stiamo stiamo sull'uomo però bravo avere due stiamo entrando negli ultimi cinque minuti con un gol che divide le due squadre no a vigore a vigore ma perché sbagli sti passaggi che so stupidi perché sbagli sti passaggi l'importante l'importante è non perdere la bussola evitare di andare allo sbaraglio e sopra il 28esimo dai devono attaccare sì ma usando la testa altrimenti si rischia solo di far confusione dai è più facile il compito della difesa eh no pure Tennyson no abbiamo perso così abbiamo perso così non c'è più tempo per i padroni di casa arriva una sconfitta pesante ormai si si pensa solo all'Europa League e nella Coppa Italia per i padroni di casa